Abbiamo qui con noi l'autore di questo documentario Nella Terra dei Fuochi, Marco Lagala. Come è nata l'idea di questo documentario? L'idea del documentario è nata tre anni fa, quando insieme a un mio amico, di cui facciamo parte della stessa associazione, che si chiama Rifiutarsi, abbiamo cominciato a girare per le campagne di Napoli e di Caserta, abbiamo cominciato a vedere, a constatare la situazione reale, cioè come venivano eliminati illegalmente i rifiuti nella regione Campania. Però nella fase di ricerca, mentre andavo a vedere i posti, mentre conoscevo i possibili protagonisti del documentario, mi sono reso conto che in realtà il problema era molto più radicato, molto più profondo di quello che immaginavo, cioè che il problema dei rifiuti è uno dei tanti aspetti del problema della perdita di equilibrio, del rapporto tra l'uomo e la natura che viviamo oggi nella nostra società. Quindi poco a poco, diciamo, ho aggiustato il tiro del film, che all'inizio doveva essere soprattutto un reportage d'attacco, cioè mostrare come venivano eliminati i rifiuti e la pericolosità. Però mi sono reso conto che in realtà il messaggio deve essere più vasto. Così quando ho incontrato Nunzia Lombardi e i ragazzi della cooperativa sociale Ottavia, che si trova a Marigliano, ho capito che quella era la storia che cercavo, perché i ragazzi, basandosi solo sulle proprie forze, solo sulla collaborazione tra di loro, sono riusciti a recuperare un campo abbandonato, che era stato da vent'anni ormai completamente dimenticato, ed era diventato anche una sorta di discarica, per fortuna, ma solo di rifiuti urbani. E quindi ho visto loro che rivulivano il campo, poco a poco l'hanno riportato alla propria funzione originaria, cioè produrre prodotti agricoli soprattutto, però facendo tutto in modo il più pulito possibile. Cioè quella che oggi si chiama agricoltura biologica, però è quella che si faceva fino a 30-40 anni fa, era la agricoltura tradizionale che si faceva da noi. E quindi alla fine la maggior parte del film si svolge nell'ambito della cooperativa a Marigliano, però ci sono tante altre scene che sono invece girate, ad esempio a Cicciano, durante la festa dei Focaroni, oppure sopra l'Avvocata, durante la festa dell'Avvocata, però non c'è mai indicato il nome della location. Questo perché alla fine l'idea era quella di comunicare che dal Vesuvio fino alla terra di lavoro, fino a Caserta, esiste un grande territorio, che oggi viene chiamato purtroppo terra dei fuochi, ma che è un territorio che ha una grande unione, non solo a livello sociale e culturale, ma anche economico. Cioè un territorio che sta perdendo la sua vocazione, cioè quella di produrre beni agricoli. Questo per tanti problemi, perché dagli anni Ottanta in poi si incominciano ad abbandonare i campi, un po' in tutto il mondo. Però nella zona ossia si è aggiunto il problema dell'eliminazione illegale, perché poco a poco, che negli anni Novanta, sono cominciate a uscire le prime indagini, le prime inchieste della magistratura, le persone, giustamente, anche, non si sono sentite tutelate, hanno cominciato a non comprare. E lì si è generato tutto un meccanismo che ha portato i contadini a non riuscire più a vendere i prodotti, e quindi altri campi che venivano abbandonati finivano nelle mani della camorra, chi lo utilizzava per interrare i rifiuti o per bruciarci i rifiuti. Ok, grazie.